Se lei direttore mi consente... Io la consento sempre professore. Grazie, partiamo subito perché l'argomento è molto denso, oggi abbiamo tante cose da raccontare. Allora, oggi la lezione parla di evoluzione dei sistemi di calcolo verso quantum computing. Allora, cominciamo subito con una immagine che noi non andremo a descrivere nei dettagli e vi dico subito che questa è un'immagine molto qualitativa, più che quantitativa. Questa risale al 2013 e rappresenta il tempo, gli anni, sull'asse delle X e sull'asse delle Y c'è invece il numero di operazioni per secondo per 1000 euro che i calcolatori dell'epoca hanno via via raggiunto. E si vede questa zona, diciamo, che colore è questo? Un grigio verde, leggero, che a un certo punto si parte dai primi del 1900 dove i sistemi erano fondamentalmente sistemi di natura elettromeccanica tutto avveniva con imbranaggi, con culegge, con diciamo tutta una serie di meccanismi che permettevano rotazioni e movimenti di tipo elettromeccanico che c'era ovviamente la corrente elettrica che le faceva funzionare. Tutta questa zona qua è stata poi superata intorno agli anni 40 da quello che si chiamano i relay a stato solito. Il relay cos'è? È un sistema elettromagnetico dove io un pistoncino mi faccio passare intorno al corrente, il pistoncino si magnetizza o si smagnetizza e si apre o si chiude, aprendosi e chiudendosi in realtà mette in comunicazione e fa passare corrente o no. Era un sistema per cui, per esempio, macchine come questo bel calculator model 1 funzionavano, poi siamo passati alle valvole termoioniche. Le valvole termoioniche di cui un tipo di valvola è il triodo, molto importante, dove con una fonte e un sorgente e un pozzo, un argolo e un cartogolo tecnicamente, si metteva in mezzo una griglia che opportunamente pilotata con tensioni permetteva il passaggio o non il passaggio di corrente. Ricordiamoci che la politica di base binaria, la parte atomica, quello che viene chiamato i quanti dell'informatica, sono 0 e 1 e il codice binario. Quindi aperto, chiuso, spento, acceso. Poi dai tubi, e di cui si parla di una macchina importante, è l'Univac 1, concepita in Gran Bretagna, e dopodiché in realtà questa è stata costruita negli Stati Uniti, ma la marca di questa macchina era concepita a Cambridge. Poi via via nel tempo siamo passati a quelli che sono i transistor, cioè non ci sono più valvole, sono in parte che vengono usate, su sistemi di silicio la nascita del transistor porta a veramente avere economie di scala, computer sempre più piccoli, meno, diciamo, energivoli e così via. Fino ad arrivare a quelli dei circuiti integrati, dove è l'era che noi abbiamo in questo momento, e si parla di valanghe e di circuiti prodotti da altrettante aziende che realizzano questi circuiti, che si chiamano microchip fondamentali. Fino ad arrivare in questa zona, dove per una serie di considerazioni, si comincia a parlare di optical computing, di quantum computing, di DNA, DNA computing, eccetera, 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 di cui poi parleremo. Ma quello che è stato fondamentalmente l'evolvere dei sistemi, notate che i calcolatori evolvono sia per via dell'hardware, che noi stiamo analizzando oggi, ma soprattutto per via del software, e quello che divende funzionante, eccetera, eccetera. Tutto questo fa sì che i calcolatori hanno subito delle modifiche genetiche nel tempo, modifiche che hanno portato a quello che noi oggi viviamo. I nostri smartphone sono l'esempio classico. Quello che regola la potenza dei calcolatori, la potenza dell'hardware dei calcolatori, è esprimibile vivendo una legge di Moore. Questa legge di Moore, poi vediamo chi è, dice che la complessità, e quindi la potenza, se vogliamo dire, di un microcircuito, questa potenza è rappresentata da quanti transistor io posso inserire sul singolo chip, questa potenza la doppia ogni 18 mesi. In realtà i primi tempi della legge di Moore era ogni anno, poi è stata modificata ogni tre anni, questo è un lavoro medio di 18 mesi. Quindi qui si vede che nel tempo i puntini rappresentano reali chip costruiti da case costrucchie. si vede come questa vetta che va a interpolare abbastanza precisamente, e qui si vede, espresso in scala logaritmica, il numero di transistor per dispositivi per chip. Quindi si vede chiaramente quello che la legge di Moore ha imposturato. Se vogliamo fare un salto di qualità, anche quantitativo, la stessa legge di Moore si vede con, si legge poco, ma è una slide molto densa, tanto voi avete queste slide, se volete potete approfondire, si vede fino a questa zona qua quanti sono i microprocessori prodotti da altre tante aziende e soprattutto si vede che oggi, al tempo che noi viviamo, la soglia di numero di transistor per chip è pari a 50 miliardi di transistor. Pensate che prima un transistor era un oggetto che era quasi come un'Umbia, però in un'Umbia noi abbiamo 50 miliardi di transistor. Ma questi 50 miliardi di transistor possono essere anche di più se sono chip legati alle memorie, possono essere anche un po' meno se sono chip legati ai processori, ma quello che conta è che per esempio l'IBM ha messo a punto il primo chip da 2 nanometri, vi ricordo che un nanometro è 10 o almeno 9 metri, è che 2 nanometri è una dimensione inferiore alla larghezza del singolo filamento di IMA umano, vi ricordate la doppia elica di Watson e Crick IMA, è quel filamento, uno dei filamenti, diciamo che i 2 nanometri sono inferiori a questa dimensione. Questo è il buffer, il wafer, che contiene tutti i singoli chip prima di andarli a tagliare e a realizzare con ciascun chip un computer, eccetera. Questo è quanto, ma abbiamo detto Morgan Moore, chi è costruito? Morgan Moore nasce il 3 gennaio del 29 e adesso è in vita, un giorno l'antenne, nasce a San Francisco, notate studia chimica, chimica perché una parte importante dei materiali è fondamentale in questo, e poi studia fisica all'Università della California Berkeley, quindi a San Francisco, riceve il dottorato in chimica al Caltech, quindi si parla a questo punto di Los Angeles, e poi nel 1956 diventa ricercatore presso lo Shockley Semiconductor. Shockley è il padre, in realtà è uno dei tre padri, che poi ha preso il premio Nobel nel 1956, Shockley, del transistor, diciamo, a semiconduttore, perché il transistor l'avevano già inventato nel 1925, però sui semiconduttori, quindi esportabile, producibile in larga scala, si deve a questo professor dottor, poi è diventato professor a Stanford, Shockley, è fondatore della Fairchild Semiconductor, ed è in particolare, lui nel 1965 va a enunciare questa legge di Moore, che ancora oggi vale, con qualche scrittiolio, ma vale ancora, e nel 68 fonda la Intel, di cui rimane il presidente. Nei primi passi dello studio dell'informatica, spesso si sente nominare soltanto l'azienda Intel, perché ha riscosso molto più successo rispetto ad altre società? Grazie, ottima domanda, è giusto in tempo, non ci dimentichiamo che il dottor Gordon Moore, è stato quello che ha creato, assieme ad altri, dalla Shockley Semiconductor, fuggirono otto persone, otto ingegneri di grande qualità, chiamati gli otto traditori, che creano la Intel, si parla della Intel, perché di fatto la Intel è stata, insieme a quello che è avvenuto in Silicon Valley, perché si chiama Silicon Valley, perché Shockley, aveva in dettaglio del transistor, aveva lavorato su questo, aveva creato la Shockley Semiconductor, dopo lì che la Fairchild, composta da Gordon Moore e altri, e poi la Intel. La Intel è stata la prima, ancora oggi è uno dei primissimi attori, nel campo dei semiconduttori. Quindi praticamente tutto questo avviene, perché persone di questo calibro hanno lavorato molto. E però io, e qui vi faccio vedere questo meraviglioso libro, che comprei qualche anno fa, costrui il nostro connazionale, anche se naturalizzato americano, da molto tempo, spende molto tempo in Italia, il vicentino Federico Faggin. Federico Faggin è nato a Vicenza, appunto nel 41, è un fisico inventore e imprenditore italiano, naturalizzato nel 68 negli Stati Uniti, è quello che viene ricordato, è per quello che ha creato la tecnologia SGT, che sta per Silicon Gate Transistor, è una tecnologia che permette di avere, negli strati, se vedete la superficie, ci sono, il transistor ha una sorgente e un pozzo, sotto la superficie, dove si scende in profondità, c'è una connessione sottile, che regolando quello che c'è sotto, io permetto al transistor di funzionare, con uno, passa coprente o con sé. Lui era il primo a aver pensato a questa tecnologia, quando già lavorava anche lui in Fairchild, perché lui è passato dall'Olivetti, poi all'Università Uniti, poi ha cambiato aziende e così via. Ma in particolare a lui si deve il primo microprocessore, che è la Intel 4004, notate, aveva 4 bit in Intel 4004. Questo poi è stato responsabile dello sviluppo dei processori successivi, di cui una serie abbiamo ancora a bordo oggi sui nostri calcolatori, è sviluppatore di questa tecnologia, Morsi Senni con Gay Technology, ha fondato la Zilog, o la Zilog, la Zilog, da cui il famoso processore Z80, e siccome lui non si faceva ma in car nulla, fondò e diresse la Synaptics, che è la prima società ad aver realizzato touchpad, touch screen. Quindi voi capite benissimo quanto lavora questo Federico Fagini. Questo è un libro bellissimo, molto denso, che racconta in dettaglio anche i meandri, perché lui fu osteggiato a livello statunitense da aver realizzato il primo multiprocessore. Lo volerò un po' tenere in disparte, fino a che poi la storia, il tempo, gli ha dato ragione. Bene, qui invece siamo più vicini, siamo alla calcolatrice elettronica pisana, frutto dell'idea di Enrico Fermi di investire dei soldi a Pisa, e questo avviene nel 54, una lettera famosa tra Fermi e il rettore dell'unità di Pisa, Enrico Avanzi dice che cosa facciamo con i 150 milioni dati a disposizione dalla provincia di Lucca, Livorno e Pisa. Ci fate un acceleratore, in realtà l'acceleratore non fu costruito a Pisa, perché fu costruito a Frascati vicino Roma, e Fermi disse ma perché non vi ho costruito un calcolatore, risolvendo il problema to buy or to build, cioè io compro un calcolatore, non è che se ce ne fossero tantissimi all'epoca, parliamo degli anni 50, i primi 50, però disse Enrico Fermi costruitevi un calcolatore, perché da quello che voi imparerete potete generare nuova conoscenza, bene, pensate al Conuce, il Consiglio Nazionale dell'Università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il grande centro di calcolo in via Santa Maria, nel 65, pensate al 1968-69, all'inizio della facoltà, della facoltà del corso di laurea in Scienza e di Informazione, e tutto quello che è successo, incluso tutto quello che ci circonda al Polo di Navacchio, alla grande esperienza delle Università Ingegneria, che hanno poi preso il testimone su altre questioni. Questo nasce da queste persone, ma questa macchina era fatta appunto da 3.000 tubi termoionici, 2.000 transistori, perché era poco che erano venuti fuori, e poi 12.000 diode aggiornali. Purtroppo questa non è venuta come fotografia, peccato moltissimo. Nel 74, questo ero io, senza abatto, un po' più giovane, che stiamo inaugurando il IBM 360-168, che era una macchina in cui la memoria è qua, che non si vede purtroppo. Voi pensate, ha un armadio, il fatto che dove c'è Claudio ci sono io, questo armadio purtroppo non si vede, e dentro questo armadio c'è questo signore che è il tecnico del IBM, che si chiama Arturo Salfoli al tempo, e praticamente questo armadio era un megabit, voi pensate ai vostri 8 giga di memoria normale o 128-26 giga che avevano i suoi telefonini, pensate a cosa potrebbe essere questo. Quindi, strada se ne è fatta tanto per dire velocità tecnologica. Tutto questo però non è dovuto solamente al problema di avere dei chip molto più densi in numero di transistor, o dei cicli di clock più veloci, i famosi 1.6 gigahertz, 2.6 gigahertz, e così via. ma è dovuto al fatto che il modello di John von Neumann che era appunto un matematico fisico e informatico che ha lavorato a Princeton di origine inglese, era basato sul concetto di programma memorizzato, cioè io ho una unità che si chiama Central Processing Unit che lavora le informazioni, possono solo le informazioni primarie e le istruzioni, le istruzioni e dati si trovavano all'interno della memoria. Prima i computer, i primi computer le ETSAC, le ETSAC, avevano un pannello per programmare e i dati venivano dall'altra parte. Qui è la prima idea del modello di John von Neumann di avere istruzioni di dati nello stesso contenitore che si chiama memoria. La CPU prende le istruzioni, le esegue, le istruzioni vanno a prendere i dati della memoria e così via. E le memorie si riempiono per via di un input che può essere una tastiera, quello che volete e danno un output sul video, sulla stampante. questo modello è un modello fondamentale. Cosa succede se io prendo questo modello e lo metto in parallelo, ne prendo tanti? Beh, è come un carretto, invece di essere trainato da un cavallo, il carretto è trainato fondamentalmente da 10 cavalli. Quindi è ovvio che si va molto più velocemente, scusate, non voglio che sanno la radio. Quindi a questo punto che succede? Succede che l'imparallelismo ha creato tantissime aspettative. L'estremo del parallelismo è l'internet e in particolare l'internet delle cose dove io a una nuvola che noi definiamo internet posso aggiungere qualsiasi dispositivo intelligente o smart e quindi fondamentalmente questo è un computer parallelo di bigliardi potenzialmente di oggetti. Allora il parallelismo poi cosa è successo? Il parallelismo è stato portato all'interno della CPU quindi una CPU non è fatta in maniera monolitica in questa maniera la CPU è basta ma una CPU è divisa in pezzi più piccoli che si chiamano core infatti questi telefonini quanti core ha 4, 8, 6 e così via ciascun core è come se fosse una CPU un pochettino più piccola con qualche piccola cosettina poi non bastando questo i calcolatori sono arricchiti di un altro tipo di unità molto specializzata che si chiamano general processing unit graphic processing unit che sono le cosiddette GPU che nascono dal fatto di dover fare i filmini animati dei videogiochi e questi oggetti riescono a lavorare moltissimo bene le matrici e quindi diventa un nuovo elemento che si somma alla CPU e quindi per esempio Nvidia che è una dei principali produttori di GPU al mondo di fatto fa vedere questo disegnere in cui la CPU prende i data prende le istruzioni passa e le GPU lavorano in parallelo per i fatti a questo per non farsi mancare nulla si aggiunge una nuova unità che si chiama TPU che sta per Tensor Processing Unit i tensori sono delle matrici multidimensionali l'intelligenza artificiale usa matrici per analizzare in linguaggio umano per vedere immagini e così via tutto questo fa sì che noi abbiamo oggi tre livelli la CPU classica la GPU e la TPU e le TPU nel caso di sistemi per l'intelligenza artificiale questo è l'evolvere di tutto quanto Google ha cominciato a costruire le sue TPU questa è un'altra fotografia che purtroppo non c'è non capisco perché e poi questo invece è Sandar Picciai che è l'amministratore delegato di Alphabet che fa vedere che dietro diciamo il sistema di GPU TPU e CPU di Google c'è una balanga di oggetti che vanno a raffreddare questo mostro che purtroppo non so perché detto questo a questo punto noi abbiamo quindi e cambiamo subito passiamo la parola a Claudio Cicconetti abbiamo visto che i computer si sono evoluti d'accordo in una certa con una certa velocità siamo oggi siamo più o meno a 10 alla 9 operazioni al secondo per quanto riguarda gli smartphone diciamo flop operazione più operazione meno i server si arriva a 10 alla 12 quindi mille volte superiori i supercalcolatori quelli con i muscoli robusti le ferrari della situazione si erano arrivati a 10 alla 15 cosiddetti peta flops quindi 10 alla 15 operazioni personali e si pensava che prima di qualche anno il 25 questa è quella che veniva chiamata diciamo il livello dei peta flops dell'epoca si pensava che arrivare a 10 alla 18 quindi ancora mille volte più avanti la più diretta exascale potessimo noi arrivare intorno agli anni 25 26 27 perché per costruire queste macchine ci volevano la centrale nucleare attaccata per produvere energia per tenerle in vita beh questo non è avvenuto perché è stato realizzato Frontier Frontier è una macchina spaventosamente potente la Ferrari oggi diciamo una macchina molto potente la più potente questa è una macchina enorme vado avanti da 1.1 10 alla 10 alla 18 operazioni al secondo è il più veloce supercalcolatore al mondo e qualcuno ha fatto un esempio che se noi vogliamo fare quello che questa macchina ha per un secondo dobbiamo pigliare tutta la popolazione mondiale sono circa 8 miliardi di persone farle lavorare 4 anni e tutta questa gente fa quello che la macchina fa in un secondo finiamo questo argomento e quasi due campi di tennis enorme a questo punto di queste macchine ce ne sono tante consumano un sacco di energia e a questo punto la domanda è ma ci sono altre macchine in questo settore che possono eventualmente far paura a Frontier si volevo chiedere avendo visto quindi Frontier sappiamo quindi che esistono vari supercalcolatori supercomputer Leonardo per esempio che era nelle immagini precedenti ad esempio è uno degli otto supercomputer pre-scale che formeranno la rete di calcolo europea ad altre prestazioni euro KPC e verrà realizzato proprio in Italia presso il tecnopolo di Bologna quello per esempio come funziona? grazie molto grazie molto ti conosco molto bene il Cineca perché quando cominciai io appunto il responsabile del centro supercalcolo del Cnuce e con Bologna avevamo uno scontro a livello nazionale per il primo supercalcolatore in Italia il Creurino che invece veniva in attesa andò a Bologna ma questa è una storia Bologna è cresciuta tantissimo e oggi ospita ospita già questa macchinaria che è un macchinario costruito da Atos che è una multinazionale con capitale fondamentale in Spagna e circuteria e microcircuteria abbastanza generale questo è un macchinario che di fatto oggi è in grado di essere sicuramente a livello di supercalcolatore però non fa parte della exascale cioè non arriva a 10 alla 18 si ferma un pochettino più sotto e ancora diciamo intorno penso voi sapete che le macchine hanno il fondo scala quanto arriva la macchina a 280 ma chi ci va a 280 non che vedete una Ferrari sulla pista praticamente si va intorno ai 130 140 160 180 dipende da dove si deve andare il computer è uguale i supercalcolatori hanno un fondo scala e poi hanno una velocità che viene misurata con i benchmark che sono dei sistemi che si chiamano l'impact per risolvere i sistemi di evoluzione lineare che vanno a testare quanto la macchina è potente ha i muscoli ebbene Leonardo è al quarto posto nel supercalcolo il primo è Frontier Leonardo al quarto posto mentre Frontier ha qualcosa come circa 9 milioni di core attaccati Leonardo ne ha un milione di core e la Frontier ha superato l'asticella di 1 per 10 alla 18 e invece Leonardo è ancora sotto questo è a livello di 145 petaflops dovrebbe essere l'ordine di grandezza della velocità in cui va sotto stress questo è quanto a questo punto voi capite quanto importanti sono i microprocessori e quindi l'importanza strategica dei microprocessori c'è una domanda su questo sì volevo chiedere che tipo di effetti può provocare la carenza dei microchip ieri sera hanno fatto una trasmissione meravigliosa di quasi due ore su questo sulla 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 Rai su Rai 3 che si chiamava la guerra dei chip e la carenza dei microchip l'abbiamo vista davanti al covid per motivi di produzione ma siccome i microchip sono al cuore di ogni dispositivo elettronico incluso i droni per gli attacchi strategici missili le bombe eccetera purtroppo per noi ma su tutti i semi di intelligenza artificiale e così via c'è un microprocessore sempre più evoluto questo è diventato un problema fortemente geopolitico tant'è vero che gli Stati Uniti hanno definito un act una legge per incentivare e per riportare in parte tutte le tabule dei chip e microchip che sono sparse per il mondo tipicamente in Sud Corea e Taiwan in Olanda c'è anche la Philips che fa anche pezzi eccetera quindi i microchip sono fondamentali la guerra dei microchip è già in atto si tendono le grandi superpotenze a farsi i rispettucci in questo momento il vantaggio è per gli Stati Uniti rispetto alla Cina ma la Cina sono tanti e molti menti e hanno molti investimenti in mezzo c'è il vaso di cocci con l'Europa che nonostante la nostra diciamo presidente della Commissione Europea la Fondaline abbia fatto partire un chip anche per l'Europa noi dobbiamo diciamo abbiamo lo scotto di avere ancora diciamo delle sudditanze nei confronti di altri quindi non ci possiamo esprimere anche perché i 27 paesi oggi dell'Unione non sono quasi mai all'unisono sulle grandi questioni di strategia anche questa è un fatto importantissimo le prossime le prossime attività geopolitiche passeranno anche per i miei ricerci a questo punto noi ci poniamo una domanda prego buongiorno a tutti allora è possibile superare i limiti degli attuali computer sì certamente è qualcosa che vogliamo fare andando a realizzare quello che era il sogno del grande fisico Richard Feynman che aveva previsto e teorizzato la possibilità di avere dei computer quantistici un piccolo passo all'indietro meccanica quantistica la meccanica quantistica in breve è una branca della fisica che descrive fenomeni che avvengono su scale molto piccole subatomiche quindi non perché ci siano due diverse fisiche che governano lo diverso la quantistica e la non quantistica le lenti sono uniche però agli effetti per noi gli oggetti che tutti i giorni vediamo e tocchiamo non concretizzano non possiamo vedere gli effetti quantistici perché gli oggetti sono costituiti da un grandissimo numero di particelle subatomiche i cui effetti quantistici si compensano e si annullano di fatto quindi se prendiamo una palla di tennis in mano dentro ci sono degli effetti quantistici che non vediamo quello che fanno quantistici e invece andare a sfruttare questo tipo di fenomeno allora la meccanica quantistica è nata all'inizio del secolo scorso quindi c'è il fisico Max Planck ed altri Max Planck è quello di figure che introdusse si accorse del fatto che alcuni fenomeni naturali la luce in particolare avvengono in maniera non continua come la corrente che spose su un filo elettrico ma in maniera discreta a pacchetti la luce era fatta a pacchetti questi pacchetti li ha chiamati anche quanti e quindi fortunatamente li ha chiamati quanti e abbiamo la meccanica quantistica invece di continuare a chiamarli pacchetti perché meccanica pacchettistica sarebbe stata davvero terribile con il tempo tantissimi scienziati hanno fatto poi ricerca all'inizio del novecento conseguendo anche numerosi premi Nobel alcuni sono citati nella slide da Heisenberg a Schrodinger fino ad arrivare al recentissimo premio Nobel della fisica dell'anno scorso che è stato dato a Asper Closer e Schrodinger che rivedremo successivamente ci sono molte tecnologie moderne che sono basate sulla meccanica quantistica e quindi è qualcosa di tutt'altro che esoterico e magico qualcosa che noi tutti i giorni utilizziamo il laser molti scienziati utilizzano microscopi elettronici se abbiamo bisogno di una dissonanza magnetica nucleare per un esame diagnostico tutte queste tecnologie si basano su principi della meccanica quantistica quindi è qualcosa che ha un effetto pratico già oggi sulla popolazione su di noi quotidianamente dalla meccanica quantistica andiamo adesso verso due nuove invece applicazioni che sono quella del calcolo quantistico quantum computing e comunicazione quantistica quantum communications e a differenza dell'ase della risonanza magnetica adesso in questi anni sono in corso di emergere e diventare un qualcosa che possiamo effettivamente usare per migliorare le nostre vite e di questo riscuteremo nei prossimi minuti anche questa slide come potete non vedere non fa niente possiamo anche andare a braccio il bello della diretta dicono gli esperti allora nei computer quantistici sì andiamo ad evolvere il bit di cui ha già parlato Mimmo precedentemente i bit rappresentano o uno zero o uno uno quindi sono limitati a questi due valori al contrario i bit quantistici chiamati anche quantum bit o qubit possono rappresentare non solo gli estremi zero o uno ma anche una qualsiasi altra proporzione di zero e uno contemporaneamente in virtù di un principio che si chiama sovrapposizione degli stati quantistici quindi per fare un esempio semplificativo se col bit possiamo rappresentare persone personaggi che sono o buoni o cattivi con un singolo qubit possiamo rappresentare personaggi o persone che sono una qualunque combinazione di buono e cattivo quindi sono più espressivi possiamo dire oltre alla sovrapposizione il principio fondamentale che viene sfruttato dalle tecnologie quantistiche è quello dell'entanglement per il quale non esiste un termine italiano comunemente utilizzato a volte si parla di intreccio aggrovignamento correlazione sono tutti quanti dei subrogati spesso viene utilizzato il nome direttamente entanglement anche in italiano in mancanza di un termine migliore e descrive un fenomeno che è molto contuntitivo tanto che non piacque mai a Einstein quindi Einstein più grande fisico della storia penso si possa serenamente ammettere eppure sull'entanglement cade nel senso che era pur di fronte a dell'evidenza sperimentale disse no c'è qualcosa che non va ci manca ancora qualcosa perché l'entanglement va a definire quella che lui stesso con le sue parole chiamò un'azione spooky spettrale un'azione paurosa a distanza e questo sarebbe andato in violazione dei suoi stessi principi della relatività che non intendeva fosse possibile violare tuttavia successivamente è stato possibile coniugare insieme la relatività con questi fenomeni che sono stati poi confermati da ripetuti esperimenti e che oggi ma solo recentemente sono del tutto accettati dalla comunità scientifica tanto per dare un'idea il fisico danese Niels Bohr che i ragazzi potrebbero ricordare per il modello atomico ma fu anche uno dei padri della meccanica quantistica disse che chiunque non sia scioccato dalla meccanica quantistica vuol dire che non si se uno l'ha capita davvero l'effetto che deve avere è quello di sciocco tra l'altro il premio Nobel già citato l'anno scorso per i fisici Aspect Roser e Zeinger fu concesso proprio per i loro esperimenti che nel corso dei decenni hanno confermato la validità sperimentale dell'entanglement quindi c'è stato bisogno di esperimenti ripetuti fatti da fisici e differenti per arrivare a convincere la comunità scientifica di questo tipo di effetto l'entanglement che cos'è l'entanglement mette in correlazione diversi sistemi quantistici i nostri qubit quindi se abbiamo un solo qubit abbiamo detto che esso può essere in una qualsiasi sovrapposizione di 0,1 buono o cattivo se abbiamo più di un qubit e ne creiamo un insieme per esempio tre come vedete questa volta nella figura noi possiamo andare a definire un sistema quantistico più complesso che mette insieme diverse caratteristiche ciascuno in una certa proporzione quindi abbiamo buono e cattivo in qualunque proporzione insieme a simpatico o antipatico e insieme a forte e debole per esempio e questo fenomeno consente nei computer quantistici di andare a espandere in maniera esponenziale la quantità di informazione che si può codificare all'interno di un insieme di qubit noi abbiamo tre qubit come in figura possiamo andare a codificare otto possibili stati che sono tutti quanti due per due simpatico antipatico per due forte e debole quindi va con due alla tre che non è molto non ci fa così in pressione otto possibili stati se noi avessimo cinque qubit ne avremmo 32 che comunque non ci fa cadere dalla sedia soprattutto dopo tutto quello che ha raccontato Mimo sull'exascape se ne abbiamo dieci anche due alla dieci sono mille e ventiquattro stati possibili roba da anni cinquanti ecco se ne abbiamo cinquanta cominciamo già a parlare di qualcosa di interessante perché entriamo nel milione di miliardi di possibili stati rappresentabili con soltanto cinquanta qubit e tenete presente che i calcolatori quantistici di oggi hanno già centinaia di qubit il calcolatore dell'IBM è più potente che si può utilizzare a 125 qubit e sempre più ne stanno costruendo se pensiamo quindi con una manciata di qubit per esempio 500 come nella slide abbiamo una quantità di stati rappresentabili che è impossibile da immaginare è infinitamente superiore al numero di atomi dell'universo atomi di qualunque universo ci possa venire con alla fine 500 qubit che sono qualcosa che sta letteralmente sulla punta di uno screen quindi da qui si comincia a capire come la sovrapposizione insieme all'entanglement ci consentano di avere un aumento delle capacità computazionali che è inimmaginabile per i computer tradizionali dove non esiste questo tipo di incremento esponenziale dai bit alla quantità di informazione che è possibile rappresentare ad esempio un computer convenzionale anche un super computer di quelli visti finora avrebbe bisogno comunque di un tempo incompatibile con la vita umana per trovare i fattori primi di un numero rappresentato su 2.48 bit come quelli che si utilizzano quotidianamente per le comunicazioni sicure su whatsapp o sui siti web al contrario il computer quantistico può realizzare questa operazione in pochi minuti quindi parliamo di scale di potenza che sono incommensurabili come si fa a realizzare questi qubits allora i computer tradizionali realizzano i bit con chip al silicio nei circuiti integrati prima transistor prima valvo e quant'altro i computer quantistici possono utilizzare diverse tecnologie ad oggi non ce n'è una dominante ed è difficile indovinare oggi quella che sarà la tecnologia dominante del futuro sicuramente in tante grandi aziende e ente di ricerca pubblici stanno provando a sperimentare diverse tecnologie in modo da trovare quella migliore alcune di queste tecnologie quelle in particolare basate su semiconduttori richiedono purtroppo che i qubit siano molto freddi molto freddi vuol dire vicini allo zero assoluto quindi a meno 272 gradi celsius che è qualcosa di scomodo da portare in tasca il notizia di pronata 2019 qualcuno potrebbe ricordare che google annunciò di aver raggiunto la supremazia quantistica grandi titoli di stampa quello che avevano fatto in pratica era realizzare su un computer quantistico l'estrazione di numeri casuali che è una cosa che non è utile tutti i giorni ma che comunque fu possibile fare con un computer quantistico questa operazione che invece con un computer classico avrebbe richiesto i soliti migliaia di anni batti becco con IBM che sosteneva invece che questa cosa non è vera loro se avessero voluto potevano farlo ugualmente in poco tempo ma comunque al di là di questi discrezzi tra le grandi aziende fatto sta che nel 2019 fu raggiunta la prima delle 6 milestone pietre miliari definiti da google per raggiungere il computer quantistico quello in forma più completa quindi quello che effettivamente potrebbe essere utilizzato per applicazioni pratiche alla portata di tutti quanti molto recentemente poche settimane fa è stato annunciato di aver raggiunto la seconda milestone quindi dal 19 al 23 la prossima dovrebbero raggiungerla tra due anni se va avanti così avrete i computer quantistici il miniaturismo in particolare ai ragazzi per quando inizierete le vostre prime esperienze lavorative quindi se questa tabella di marcia verrà rispettata andrete a lavorare per la maggior parte della vostra carriera lavorativa futura alcuni di voi se non tutti lavoreranno su computer e con computer quantistici quindi qualcosa che non è ipotetico eventuale ma che sembra essere concreto almeno secondo queste tabelle di marcia un grande attore all'interno dell'ecosistema dei computer quantistici è l'IBM l'Istituto di Informatica e Telematica è membro dell'IBM Quantum Network quindi noi effettivamente possiamo utilizzare i loro calcolatori per esperimenti questa è una schermata presa dal mio computer con i calcolatori che possiamo andare a utilizzare in questo momento vedete 27 qubit 7 qubit perché con pochi qubit ci si può fare in realtà tanto non sono come i bit tradizionali che con 27 bit non ci faccio niente con questi qui ci faccio tanto e posso farlo tramite dei linguaggi di programmazione specifici oppure anche tramite delle interfacce visuali come quella mostrata in figura in cui si possono comporre quelli che sono chiamati circuito quantistici per andare a realizzare operazioni tramite i calcolatori che poi vengono effettuati nei superfiguriferi allo zero Kelvin in cui c'è effettivamente il C l'IBM sta anche commercializzando un quantum computer quindi c'è un computer che non necessariamente va operato all'interno di un laboratorio con personale specializzato ai scienziati ma che se uno ha soldi o sufficienza può prendere e portare a casa quindi si vede lo spaccato di quel computer che quando è chiuso in realtà sembra uno scaldabagno e dentro ha per la maggior parte un superfigurifero e poi una punta di spillo di circuito integrato che realizza i qubit per quantistici per il calcolo un po' di vanto nazionale una dottoressa Anna Grassellino è laureata 15 anni fa all'università di Pisa e ad oggi lavora al Fermilab a Chicago e ha ricevuto riconoscimenti e ingenti finanziamenti per andare a realizzare una tecnologia alternativa di computer quantistico rispetto a quanto stanno facendo Google Microsoft IBM quindi il governo americano ha dato un bel po' di dollari alla dottoressa per questi studi il riconoscimento del fatto che ha fatto un'esperienza importante al CERN di Ginevra sugli acceleratori e è riuscita a trovare un modo per utilizzare quella tecnologia per realizzare i computer quantistici tra i riconoscimenti che citiamo nel 2017 ha ricevuto il premio alla carriera rampante niente poco di meno che dalle mani del presidente Barack Obama e l'anno scorso ha ricevuto il New Horizon Prize che viene anche chiamato l'Oscar per la fisica quindi importanti riconoscimenti a livello mondiale andiamo verso un altro invece delle due applicazioni della meccanica quantistica quindi fino adesso abbiamo parlato dei computer quantistici che consentiranno di effettuare calcoli alcuni tipi di calcoli in maniera molto più rapida dei computer tradizionali grazie a sovrapposizione e entanglement ma questa non è tutta la storia è possibile anche avere i qubit volanti quindi i qubit che sono i calcolatori vengono chiamati qubit di materia perché sono qualcosa che rimane su quella punta di spillo che è in fondo al super frigorifero dell'IBM al contrario se io per qubit utilizzo fotoni i fotoni hanno la caratteristica di non stare mai fermi non è possibile vanno sempre alla velocità della luce qualunque cosa uno provi a farci e questo ci consente di codificare i qubit tramite questi signori e poi di utilizzare questi signori per mandarli da una parte all'altra di due interlocutori e possiamo quindi costruire un sistema di comunicazione questo sistema di comunicazione può essere basato su fibra ottica se incanalo i fotoni su una fibra ottica come quelle che vengono utilizzate comunemente per le comunicazioni classiche per la internet oppure possono essere mandati anche in aria per esempio su dei satelliti che li elaborano e poi li rimandano tramite una parabola ricevente a terra nei fotoni le due ci sono diverse tecnologie che consentono di qualificare in qubit tramite un fotone per esempio lo 0 e 1 possono essere rappresentati dalla polarizzazione della luce questa non si vede e non ricorda almeno cosa c'è non fa niente parliamo di cosa può a cosa può essere utile utilizzare le comunicazioni quantistiche passo indietro comunicazioni classiche supponiamo che voglia mandare un messaggio a Mimmo e che questo messaggio debba essere segreto cioè non deve essere possibile per un'altra persona capire il contenuto di questo messaggio per esempio il contenuto delle slide della puntata 8 di alfabeto digitale perché vogliamo che nessuno possa spoilerare il contenuto per far questo io codifico le slide sotto una forma di una sequenza di 0 e 1 la metto in una serie di pacchetti che mando via internet e li mando a Mimmo ecco niente impedisce a un malintenzionato che abbia accesso fisico al mio telefonino oppure alla mia wifi di casa oppure al cavo della telecom che porta da casa mia fino a internet se ha accesso fisico può leggere il contenuto di questi gritt e guardarsi in anteprima la presentazione cosa che noi non volevamo avvenire quindi tutto qua possiamo fare del nostro meglio per fare in modo che ciò non avvenga rendendo i singoli tratti di comunicazione più sicuro possibile cosa che facciamo ma comunque non ci sarà mai modo per Mimmo per sapere che al 100% assolutamente nessuno ha visto le slide oltre a lui grazie alle comunicazioni quantistiche questo invece può cambiare questo perché c'è un principio per i sistemi quantistici in generale e i qubit in particolare che dice che non è possibile copiare un qubit si chiama teorema di non clonazione quindi se al contrario dei bit classici che possono essere copiati quante volte volete quindi se voi potete prendere il vostro computer e come consigliato fargli un backup fargli una copia di dati che se si rovina il disco rigido che avete potete prendere il vostro backup e ritrovate gli stessi identici bit che avevate prima con i qubit questa cosa non è possibile niente backup perché non è possibile copiare nemmeno un singolo qubit siccome non è possibile copiare il singolo qubit ci possono essere due casi se io ne invio uno a Mimmo può essere che il malintenzionato che ha accesso fisico all'infrastruttura di comunicazione legge il qubit in quel caso Mimmo saprà con certezza che qualcosa è andato storto perché a lui non gli attiva niente d'altra parte se il malintenzionato non riesce o non prende il qubit e attiva a Mimmo Mimmo ha una certezza assoluta garantita dalle leggi della fisica non garantita dal conditore di servizi telefonici che tutto quanto è andato a posto quindi che la rappresentazione effettivamente è arrivata con sicurezza questo principio di non pronazione consente di creare quelli che si chiamano protocolli di distribuzioni di chiave quantistiche o quantum key distribution in inglese quindi ciò su cui la comunità scientifica sta lavorando è andare a creare in futuro una internet quantistica addirittura quindi fare in modo che tutte quante le comunicazioni che avvengono sulla internet quantistica siano fatte tramite la trasmissione di qubit di fotoni tramite dei dei nodi intermedi che si chiamano ripetitori quantistici quanto dei peter che mettono in comunicazione due interlocutori quindi in maniera tale che sia possibile andare a realizzare questa distribuzione di chiavi quantistiche per l'invio ultra sicuro sicurezza incondizionale viene chiamata dagli esperti per la trasmissione di dati tra qualunque persone del mondo questa internet quantistica ragionevolmente non andrà a sostituire integralmente la internet classica ma vi si aggiungerà quindi la internet classica rimarrà al sistema per la trasmissione di dati filmati video foto ma ci sarà una internet quantistica sopra che consente lo scambio sicuro di chiavi in maniera tale che poi sulla internet classica tutto quanto avviene in maniera sicura non è solo questo ciò che possiamo fare con la internet quantistica ma una volta che ce l'abbiamo possiamo anche utilizzarla per mettere in comunicazione i computer quantistici e questo sarà molto importante probabilmente nei prossimi anni perché i computer quantistici nei prossimi anni sebbene siano sofisticati e importanti sono come abbiamo visto nella tabella di marcia di Google in una fase preliminare dello sviluppo quindi non molto potenti con un computer quantistico di oggi si possono fare si possono risolvere problemi pratici che sono risolvibili tranquillamente anche con computer classici oppure si possono risolvere problemi non risolubili da computer classici che non sono molto pratici come per esempio trovare sequenze di numeri casuali che è importante ma non importantissimo però se noi invece che un singolo computer quantistico ne abbiamo tanti quello di IBM quello di Google tanti di IBM quello del Grassellino a Chicago e li mettiamo in comunicazione tutti insieme già nei prossimi anni potrebbero andare a risolvere problemi che sono effettivamente utili e pratici per tutti noi ciò di cui abbiamo bisogno è che una internet quantistica che li colleghi perché siccome i computer quantistici manipolano qubit la internet classica che trasferisce bit non è adeguata per farli comunicare deve parlare la loro lingua grazie Claudio abbiamo qualche manciata di minuti perché per cercare di dare un'altra mano di vernice a quello che abbiamo visto voi avete qualche domanda nel frattempo eventualmente vi fosse qualche curiosità prego abbiamo tempo per farlo lo facciamo con molta spontaneità che tipo di calcoli potrebbero arrivare a fare per risolvere quale tipo di problemi per esempio domanda domanda eccezionale quale tipo di problemi possono essere risolti in maniera efficiente dai computer quantistici allora sicuramente tutti quanti diversi di quei problemi per primi tutti quei problemi che riguardano la meccanica quantistica quindi e questo il sogno di Richard Feynman era quello di quando lui disse l'ultima parte della sua vita in un momento in cui i calcolatori classici erano in esplosione e vide la possibilità di modellare la fisica classica tramite computer quelli che computer quelli che chiamano convenzionalmente computer e si disse ma se io ho un sistema quantistico un computer classico che stava nascendo allora non mi basterà mi ci vuole un computer quantistico e aveva assolutamente ragione per esempio andare a studiare la composizione di nuove molecole per nanostrutture o per applicazioni farmaceutiche quello richiede calcoli all'interno della meccanica quantistica perché a scala atomica e subatomica abbiamo detto che vincono le leggi della meccanica quantistica non classica ecco questo con un computer tradizionale è terribile da fare tutti quanti i conti che servono quindi molecole molto semplici idrogeno ossigeno li possono modellare molecole grandi come quelle che servono per creare un farmaco per risolvere per guarire una certa malattia non è possibile fare si possono fare delle approssimazioni che magari funzionano magari non funzionano quindi questo richiede tempo e fatica ai ricercatori con un computer quantistico sarà possibile simulare esattamente il comportamento della molecola o dell'insieme di atomi e quindi andare a ridurre i tempi di ricerca per lo sviluppo di quel tipo di tecnologie inoltre in generale tutte quante le applicazioni che richiedono una ottimizzazione si risolvono molto bene con computer quantistici quindi devo trovare qual è il percorso migliore all'interno di una rete oppure devo trovare qual è il migliore orario per i treni o l'aeroporto sono problemi che si possono esolvere con computer classici ma se sono molto grandi richiedono un tempo enorme che a volte è incompatibile con il tempo che abbiamo a disposizione con un computer quantistico questo si esolve molto bene tra l'altro non ne abbiamo parlato ma forse un minuto esistono anche delle tipologie di computer quantistici che già oggi sono molto efficienti per risolvere problemi di ottimizzazione si chiamano computer quantistici analogici o adiabatici e già oggi questi computer quantistici sono più semplici da realizzare di quelli dell'IBM o della Gassellino e infatti hanno molti più qubits quindi già oggi uno può comprare un computer quantistico analogico con 2000 qubits per esempio che non può stare nemmeno tanto milioni di euro o qualcosa del genere quindi qualcosa che ha la portata di qualunque azienda di medie dimensioni e questi computer consentono di andare a ottimizzare dei sistemi soltanto il fatto che la natura è passimoniosa quindi se noi abbiamo un qualunque sistema naturale meccanica classica o quantistica il sistema evolve secondo una dinamica che è quella del maggiore passimonia della minore energia consumata questo è il motivo per cui se io lancio una palla in alto la palla esegue un certo tipo di traiettoria invece che spararsi verso la luna non succede perché spararsi verso la luna richiederebbe maggiore energia che invece salire e salire fino a un picco e poi riscende soltanto questo fatto si prendono questi computer quantistici analogici si configurano i qubit in base all'input del sistema a ciò che voglio ottimizzare e poi lo si lascia andare non si fa nulla non facendo nulla la natura farà sì che questo sistema evolverà verso una condizione di minima energia possibile a quel punto andiamo a misurare quello che è successo e questo ci dà la soluzione del problema quindi è meno flessibile dei computer di IBM e Google perché non possiamo programmarli per risolvere qualunque cosa però possiamo farli ottimizzare dei problemi pratici che già oggi sono di interesse sfruttando questo fenomeno grazie mille grazie mille Claudio allora noi siamo perfettamente in tempo regia mi date l'ok dicevo quello che mi preme per chiudere questa questa trasmissione è una una considerazione importantissima voi avete visto parlando di computer e tecnologie quantistiche che tutto nasce da idee nate all'inizio del 1900 idee nate all'inizio del 1900 Max Planck diciamo fisico tedesco che aveva ipotizzato questo discorso sulla meccanica quantistica a cui aveva aderito come aveva detto prima Claudio Cicconetti Einstein aveva aderito con qualche dubbio poi grande adesione da parte della scuola di Copenhagen di Niels Bohr quindi struttura dell'atomo di genere e discussione fino alla morte di entrambi tra Einstein e Bohr sulla questione che tutto poteva essere spiegato queste teorie ingobbavano anche la meccanica classica tutto poteva essere spiegato ma Einstein formulava alcune problematiche di questo tipo allora quello che conta che a distanza quindi 1900 siamo nel 2023 oggi noi parliamo di computer quantistici che ancora sono dei Sancta Santorum chiusi per i motivi spiegati bene raffreddamento impianti eccetera e poi complessità ancora di programmazione ma abbiamo anche visto che da quando è stato creato il primo transistor a oggi abbiamo fatto salti da girante quindi quelli che sono i tempi oggi previsti per arrivare a soluzioni di questo tipo nel campo del calcolo potrebbero essere drammaticamente ridotti nel caso in cui arrivi qualsiasi altra scoperta disruptive dilompente che spariglia le carte e ti permette di avere oggi quello che le programmazioni finisco dicendo che Thomas Watson che era da qui è titolato il grande centro di ricerca nell'estero degli Stati Uniti sopra New York diceva quando gli presentarono i primi computer del tipo 704 7090 che erano computer su cui io ho lavorato da ragazzino a un certo punto disse beh per queste macchine ci sarà spazio per una decina di macchine in tutto il mondo questa è una previsione fatta dal capo dell'IBM che è stata smentita in maniera totale quindi ne vedremo delle belle auguri ovviamente a voi per il vostro futuro e grazie per la collaborazione buona giornata grazie possiamo chiudere la radio che succede la radio abbiamo scoperto di essere scollegati tutto il tempo eccolo Carlo Carlo sì eccoci qua diceva giustamente Claudio ma noi che abbiamo parlato per un'ora circa di cose interessantissime con i ragazzi eccetera e invece non eravamo collegati ci siamo allora va bene certo che assolutamente siete collegati vi ascoltavamo e come al solito è stato un gran bel viaggio insomma in compagnia vostra e anche del vostro ospite di oggi ovviamente ringraziamo Claudio Cicconetti e un saluto a tutte e a tutti ciao alla prossima perfetto arrivederci alla prossima ciao ciao Grazie.